Golovin con il destro, un buon cross, Gasinski attenzione, Rete, Rete, Russia in vantaggio con Gasinski Sbloccata la partita, tutto solo, niente da fare, Cereshov tutto solo però passaggio troppo corto Palloni rimane lì, Cereshov, Rete, Rete, sfonda lui, 2-0 Usawi con Golovin ovviamente è un po' in difficoltà ma aveva 3 metri, gli ha recuperato il giovane gioiello della Russia Golovin cerca spazio, bravo per Zyuba, coppa di testa, Rete, proprio lui, appena il trato, Zyuba si scatena, 3-0 Russia Cereshov indovina tutto stasera, è uscito Zagoyev, è entrato Sheryshev, gol, buona prestazione, entra subito Zyuba Ma chi gli mette la palla giusta? Molto bene in questo caso Golovin, prova lui, Rete, Rete, proprio lui, Golovin, e sono 5, 5-0 Russia Ha voluto calciare, l'ha messa veramente molto bene con la forza giusta, con il giro giusto